eh 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 ecco venne qua in ginocchio in ginocchio si mette in ginocchio in ginocchio si mette si mette in ginocchio centrale mi ricevi si centrale mi ricevi dimmi sì 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 dimmi ti dicevo ti dicevo sì 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 ok allora ti volevo chiedere che ti volevo dire che abbiamo acciuffato il colpevole della rapina in banca davvero davvero sì abbiamo acciuffato vabbè allora senti allora io vedo come è fatto si chiama allison parker per caso sì sì ora glielo chiedo come ti chiami allison parker ok sì si chiama allison parker allora cerca se mi dici se è lui quello che ha rapinato la banca allora lo vediamo in cella e finalmente ce l'abbiamo in mano e allora sì qua mi dice che è lui che ha rapinato la banca quindi acciuffatelo e mandatelo al piccione a sto pezzo di un altro quindi lo portiamo in cella ok signore venga con me signore dai 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 cazzo dai siediti 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 adesso lui tu hai rapinato la banca la banca no hai rapinato la banca no hai rapinato la banca adesso di una mescola tu hai rapinato la banca e per questo adesso mi hai detto una bugia adesso morirai in pensione ok raga mi sentite oddio adesso morirai penso di una schifo ahahah che è molto bene ragazzi no signore mi senti si è morto abbiamo ucciso sì sì abbiamo ucciso Oddio Davvero l'avete ucciso Sì